La piaga delle morti sul lavoro nell'ultimo anno crescono le denunce, secondo l'Inail. Ieri ha perso la vita un operaio in un'officina alla Mezzia Terme. Elena De Vincenzo. Mani in tasca, il dolore e lo shock. I colleghi non se lo spiegano perché Felice Costanzo era bravo, era un operaio esperto. Lavorava in quest'officina di la Mezzia Terme in cui si riparano i camion. È morto sotto il peso del mezzo che stava aggiustando. Stiamo cercando di accertare la dinamica di come è avvenuto l'incorso. Siamo in piena attività di intaggine. La polizia locale dovrà accertare se siano stati rispettati tutti i criteri di sicurezza e capire perché Costanzo si trovasse ancora sotto il camion. Pare infatti che gli interventi di manutenzione si fossero già conclusi. La scheda tecnica era pronta. 54 anni, Felice Costanzo era fra gli operai più anziani dell'officina. Presto sarebbe andato in pensione, così avrebbe avuto più tempo per la sua famiglia, che lo amava. Nel ricordo del figlio, sui social, un eroe di tutti i giorni. Grazie. Grazie.